buongiorno allora si lega a questa spinta bravissima ho strappato no ma si scivola vada un po' più giù deve sistemarsi bene con la testa su con le braccia ci sono queste maniglie, guarda, affari le maniglie, sollevi le gambe grazie 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 comunque il seno a quello sinistro si si stiamo facendo dei puntini che ci servono a noi per capire come dobbiamo posizionarti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.